Ciao, come puoi vedere siamo a Positano in costiera amalfitana. Positano è conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza ed unicità. Positano è caratterizzata da spiagge di ciottoli, tradine strette e scuscese ricche di negozi, caffè e ristoranti. In questa occasione abbiamo preso la barca per visitare una delle altre meravigliose località della costiera amalfitana. Infatti da Positano è facile raggiungere in barca località come Amalfi, Sorrento e Capri. Ma la verità è che ogni occasione è buona per ammirare la bellezza di Positano dal mare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Se ti è piaciuto questo video metti un like e iscriviti al nostro canale. Puoi anche guardare uno di questi altri video o visitare il nostro sito web tripillare.it. Ciao al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.